Due auto, mezzo pesante, coinvolti in un incidente questa mattina, lunedì 26 novembre, entro le 8.30, sulla strada provinciale 222 Castellamonte all'imbocco con la Pedemontana. A scontrarsi un Fiat Punto condotto da un giovane neopatentato, una Lancia Y condotta da una donna e un'autocisterna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobili di Ivrea, i carabinieri di Rivarolo Canavese e la croce rossa di Castellamonte. I conducenti delle due vetture, rimasti feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea, il leso, l'autista del mezzo pesante. Accertamente in corso sulla dinamica.